Ieri è arrivato l'ok definitivo dalla FISU all'allestimento del villaggio per le università di Anlamostro d'Oltremare, il primo segnale si parte effettivamente? Noi non ci siamo mai fermati, stiamo lavorando tantissimo, quello che è importante è essere uniti, grande cooperazione istituzionale, grande compattezza, concretezza perché il tempo è poco ma la volontà è molto forte per fare una grande figura come città, come regione e come paese per un evento sportivo così importante, per un'occasione così importante per i nostri territori per la ristrutturazione degli impianti sportivi e il comune sta facendo davvero un grande lavoro perché noi non facciamo delle battaglie ideologiche su questo, cerchiamo di trovare le soluzioni che meglio coniugano utilizzo trasparente e corretto del denaro pubblico, efficienza dell'obiettivo, risultato che si deve raggiungere, evento che si deve realizzare. A noi non interessano le polemiche, l'abbiamo dimostrato in tutti i tavoli, a noi interessa portare a casa i risultati, abbiamo fatto sempre così, quando è di peso solo da noi ci siamo fatti trovare sempre all'altezza, quando è di peso anche da altri abbiamo ascoltato le opinioni altrui e abbiamo cercato di portare le nostre proposte e quando sono convincenti come in questo caso sono state accolte, quindi siamo contenti che si è fatto un ulteriore passo in avanti per la realizzazione di questo evento così importante.